E' stato pubblicato il bando del concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti. Il concorso, organizzato da CNA Federmoda, si articola su sei sezioni di prodotto. Prevede la selezione delle proposte pervenute, la scelta dei finalisti, la designazione dei vincitori delle sezioni e dell'intera edizione 2017, con l'attribuzione dei premi stabiliti e di quelli speciali. La fase finale della manifestazione si svolgerà dal 3 al 10 luglio 2017 a Roma in collaborazione con Alta Roma. La scadenza della presentazione dei progetti è fissata al 29 di aprile. Per ulteriori informazioni, chiamare lo 0577 26 0527 o scrivere a marketing.com chiocciolacnasiena.it CEFO Art, il centro formazione per l'artigianato, organizza corsi personalizzati di saldatura sulle ghe metalliche e sul polietilene, con possibilità di conseguire la certificazione del saldatore. La certificazione o patentino di saldatura si può infatti ottenere con due modalità, frequentando un corso di saldatura di contenuti, durata e percorso formativo in linea con la certificazione finale richiesta, e che conferisca all'operatore la preparazione necessaria al superamento dell'esame finale di qualifica, oppure, qualora l'operatore fosse già in possesso delle capacità tecniche e operative necessarie al superamento dell'esame, sostenendo direttamente lo stesso senza frequentare l'intero corso. I percorsi formativi sono organizzati con l'ausilio di docenti di comprovata esperienza e professionalità ed hanno un approccio pratico sviluppato principalmente con esercitazioni tecnico-pratiche che si svolgeranno presso il laboratorio di saldatura appositamente attrezzato. Per ulteriori informazioni, chiamare lo 0577 26 0527 o scrivere a marketing.com chiocciolacnasiena.it CNA Siena, in collaborazione con Vimar SPI di Tedo SRL, è lieta di invitarvi ad un momento di confronto, formazione ed informazione sull'uso della tecnologia in ambito di strutture ricettive e di come questa può essere messa a servizio sia del gestore che dell'utente per migliorarne la gestione e l'esperienza di soggiorno. L'evento è rivolto a professionisti e tecnici del mondo impiantistico ed edile e a proprietari e gestori di strutture ricettive piccole e grandi. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, chiamare lo 0577 26 0611 o scrivere all'indirizzo luciano.checucci.cnasiena.it È stato approvato il bando per la concessione di microcredito a sostegno della nascita di imprese giovanili, femminili e di destinatari di ammortizzatori sociali. Sono ammessi a contributo i progetti relativi alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese operative nei settori manifatturiero, del commercio, del turismo e dei servizi, la cui costituzione sia avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. Beneficiari e anche persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale. L'agevolazione è concessa nella forma del microcredito, attraverso un finanziamento agevolato a tasso zero per un importo pari al 70% del costo totale dell'investimento ammissibile, fino ad un massimo di 24.500 euro. Le domande possono essere presentate a partire dal 1 marzo 2017 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni potete chiamare lo 0577 260527 o scrivere a marketing.com chiocciolacnasiena.it CNA Drive organizza due corsi di formazione per autotrasportatore di cose per conto terzi. Il primo di 74 ore è rivolto a chi intende esercitare la professione con autoveicoli di massa complessiva da 15 a 35 quintali. L'ombligo di frequenza è previsto indipendentemente dal titolo di studio dei partecipanti. Non è previsto invece un esame finale. Il corso inizierà a maggio 2017 e le iscrizioni dovranno pervenire entro il prossimo 15 aprile. Il secondo corso è organizzato in 150 ore ed è rivolto a chi intende esercitare la professione con autoveicoli di massa superiore a 35 quintali. È previsto l'obbligo di frequenza per chi non possiede il diploma di scuola media superiore e un esame finale da svolgere presso l'autorità competente. Il corso inizierà nel mese di giugno e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio. Le lezioni per entrambi i corsi si svolgeranno a Siena, presso la sede CNA in via Simone Martini 18. Inoltre, CNA Drive ha organizzato un corso per il corretto funzionamento dei cronotachigrafi, così da consentire alle aziende di trasporto di scongiurare eventuali infrazioni sul tema. Il corso avrà una durata di otto ore e sarà svolto nelle serie CNA di Siena, Poggi Bonzi e Sinalunga. Per informazioni e iscrizioni potete contattare CNA Drive allo 0577 26 06 29 o scrivere a info-cnadrive.it Per informazioni e iscriviti al nostro canale.